Nel 1917 la rivoluzione d'ottobre ha portato il sole dell'avvenire in Russia, in Russia poi in tutti gli stati governati dall'Unione Sovietica. Qual è stato questo sole di liberazione? Per l'appunto la libertà e l'uguaglianza. In che cosa consistevano? Nell'abolizione della proprietà privata. Perché Marx aveva visto nella proprietà privata l'origine di tutte le desiguaglianze, ingiustizie e oppressioni che gravavano sulla vita delle persone. L'abolizione della proprietà privata con i bolshevichi al potere ha provocato non si sa quanti milioni di morti, in ogni caso guerra civile, fame, povertà terribile. 1917. Nel 1921 il comunismo ha fatto un passo avanti diffondendosi nel mondo e nel 1921 è stato fondato il Partito Comunista Cinese. Mao Zedong, la guida illuminare, colui che illuminava il futuro di tutto il mondo, per un problema di potere interno che gli stava crollando. Mao a un certo punto ha scatenato un fenomeno che è stato chiamato la rivoluzione culturale. Che significa? Significa che, visto che devono essere tutti uguali, visto che non ci deve essere diseguaglianza, ma è evidente che devono essere tutti uguali anche in quello che pensano. Non basta solo nei soldi o nelle case o nel potere che hanno. Tutti uguali significa che tutti la devono pensare allo stesso modo, ma per fare questo ci vuole una rivoluzione. Ci vuole dare il potere a quelli che non ce l'hanno, chi erano? Gli studenti, le guardie rose che in tutta la Cina, immenso territorio della Cina, sventolavano il libretto rosso di Mao Zedong con delle frasi, delle stupidaggini assolute che però erano il credo di questi poveracci ingannati. Come si pensava di ottenere che tutti la pensassero allo stesso modo? Bisognava rendere i contadini e gli operai uguali ai borghesi, uguali ai medici, ai professori, agli avvocati, ai notai. E come si faceva per ottenere questa uguaglianza? Si faceva presto. Si prendevano i professori e li si mandavano a essere rieducati dai contadini nelle campagne. Immaginate una famiglia, uno è medico, quell'altro insegna l'università, quello che insegna l'università viene mandato in una qualche comunità agricola, quell'altra che insegna lo stesso, il figlio finirà in qualche modo, sopravviverà in qualche modo. Questa operazione di una violenza disumana, che capita sempre ogni volta che nelle società si rifiuta Dio, questa violenza disumana ha provocato, non si sa perché la Cina è un continente immenso, non si sa quante decine di milioni di morti. Ha provocato sofferenze spaventose, che per decenni i cinesi non sono neanche riusciti a confrontarsi con quell'incubo, neanche a scrivere romanzi, neanche a fare film su questo. E poi piano piano sono venuti fuori dei pezzetti di verità, dei pezzetti di verità in poesie, in romanzi, in film. Ma pezzetti, perché è stato talmente sconvolgente quel dramma. Adesso, siccome si avvicina il centenario della fondazione del glorioso Partito Comunista Cinese, Xi Jinping cosa ha deciso? Ha deciso che vanno messi, vanno in qualche modo aiutati a esprimere il loro valore patriottico tutti i membri di tutte le religioni, quindi compresi i nostri preti e vescovi cattolici. E questi devono seguire tutti, tutti di tutte le religioni, devono seguire, innanzitutto, devono essere schedati per sapere bene chi sono, per avere un controllo della situazione e per sapere se corrispondono o meno al compito che loro dà, assegna, lo Stato. E qual è questo compito? Amare la madre patria. E va bene. Sostenere la leadership del Partito Comunista Cinese. Ma c'è stata un'autocritica di quello che ha fatto il Partito Comunista? No, assolutamente no. Però il Partito Comunista Cinese è quello che c'è la verità. Sostenere il sistema socialista. Rispettare la Costituzione, le leggi, praticare i valori fondamentali del socialismo. Aderire al principio di indipendenza e autogestione della religione e aderire alla politica religiosa della Cina. Che significa questo? In sostanza questo c'è un obiettivo, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che non deve dipendere da Roma, ma deve dipendere solo dal governo di Xi Jinping. Viva il Partito Comunista Cinese! Viva il Partito Comunista Cinese!